Un incendio divampato nella serata di mercoledì 27 novembre, poco prima delle 22.30, in un'officina meccanica situata in strada provinciale per Torino a Castellamonte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea, i carofiamme e i carabinieri. A lanciare l'allarme è stata un'insegnante dei country dell'associazione Il Volo che ha sentito degli scoppi e ha visto uscire le fiamme e il fumo. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme. A incendiarsi sono state alcune autovetture ed i pneumatici accatastati. Accertamenti in corso sulle cause non si esclude la matrice dolosa. Grazie. 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 Grazie.